ciao raga sono zio roby per la rubrica eb makers oggi vi faccio vedere cosa fare con uno scaffale voi che siete sgamati non mi chiedete di far montarlo siete più bravi di me a farlo oggi vi spiegherò e vi farò capire che secondo me ciascuno di voi in casa ha qualsiasi cosa da mettere a posto e io ho la soluzione per voi per sistemare tutto quello che avete fuori posto quindi pronti via voilà questo modello joker porta fino a 300 kg per il piano quindi su quattro piani 1200 kg non ci credete? guardate tiene anche me ciao 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 ciao